Perdonami, io sono tutto marcio e tu cosa avevi fatto? Hai fatto il master? Io ho fatto una coach in bronzo, ho fatto una coach in goro con Giulio e ho fatto due master. Ok, uno come a Milano, vero? Uno con te e Cristian a Milano, uno con Giulio e Davide a Torino. Sì, sì, sì. Come stai innanzitutto? Sto bene, sto a posto. Bello liquido. Sto facendo crescere la barba? Sto facendo crescere la barba perché sono chiusi i parrucchieri. Tipo cast away, ottimo. Mi sto trattando a sforbicciare. Allora, chi meglio di te? Mi piace parlare di mindset, mi piace proprio io, lo sanno tutti che quando sono partito non avevo un cazzo di niente e ho solo la parte di mentalità. Vorrei concentrarmi su di te, ne ho fatto anche come un istruttore questo topic, però con te voglio concentrare sul mindset, quindi sulla parte della frequenza mentale appunto di uno studente, cioè di uno che è partito comunque, tu da zero sei partito? Zero totale, proprio non da zero, da sotto zero penso. Ma da zero in tutto Ale? Anche in chat? Chat zero, approcci dal vivo zero, anche perché arrivavo comunque da una relazione molto lunga, quindi le cose sono cambiate negli anni rispetto a quando magari la più giovane si usciva a bacagliare. Tu quanti anni hai? Sono trenta. Ok. Sei novanta? Esco da una relazione abbastanza lunga, sono uscito da una relazione abbastanza lunga, quindi sono cambiate un po' le cose durante gli anni. Ok, Ale, partiamo proprio sul pezzo. Quanto conta secondo te da studente, quindi per partire, per arrivare ad affrontare comunque delle conoscenze che sia di giorno, che sia in discoteca, la chat lascio perdere perché mindset conta poi relativamente, quanto conta avere quella sicurezza, quella frequenza mentale giusta? Allora, penso che sia la cosa fondamentale da sviluppare quando uno decide di intraprendere un percorso di miglioramento. Ok, ok. Se uno ha un sacco di tecniche, però non le apprende proprio a livello mentale, inconscio, viene poi difficile applicarle. Tu avevi già, quando sei partito, avevi già questa forte, io mi ricordo che sei andato molto bene a Milano, sei andato, ma avevi questa forte predisposizione, eri già molto sicuro di quello che stavi facendo e dove dovevi andare, oppure l'hai acquisita lezione dopo lezione o facendo? Assolutamente no, è una consapevolezza che ho raggiunto appunto facendo il percorso di miglioramento, facendo pratica, provando, sbagliando, tornando indietro, dicendo no, ok, però bisogna cambiare qualcosa a livello diciamo più inconscio rispetto a quello che può essere, cioè non si può pretendere da un giorno all'altro cosa faccio, imparo a conoscere ragazze, no, non è assolutamente così. Ma la sicurezza che ti ha portato da non fare niente, arrivare a dire, sai che c'è, oltre ai video voglio fare di più, quindi la coaching, quello che era, cioè che cosa ti ha portato a fare quello step? Sicuramente la voglia di sapere, di conoscere, di sapere di più su questo mondo e proprio il fatto di non accontentarsi di quello che uno può ottenere normalmente, cioè perché? Sì, ma ti è costata fatica fare lo switch? Cioè dire, ok, da seduto, ora mi devo alzare e fare qualcosa, ti è costata oppure no? Cioè ci hai riflettuto per tanto tempo o no? No, deve essere una cosa che viene fuori da dentro, cioè a un certo punto dici basta, così non si può andare avanti, bisogna cambiare qualcosa, bisogna cambiare qualcosa a livello proprio mentale, quindi approcciarsi diversamente proprio ai modi di fare, ai modi di pensare, a tutto quanto. Se tu dovessi dare un consiglio a una persona che comunque magari parte ora, comunque parte da zero, per avere la giusta mentalità per strada o comunque in discoteca, che cosa consiglieresti? Cioè uno proprio che sta sotto zero, tremante, ok, come faccio, che faccio, ho paura, non so cosa dire, non so cosa fare, cioè dove trovo la forza, la sicurezza? La prima cosa è non aver paura di metterti in gioco, non aver paura di sbagliare, cioè alla fine che cosa può succederti di così grave se tu non vai a fare quella cosa? Cioè come voi insegnate ai master, assolutamente, cioè devi andare a conoscere quella ragazza lì, eh ma non so cosa dirgli, ok, vai lì e non dirgli niente, cosa ti può succedere se vai lì e ti fai una figuraccia? Lei non ti conosce, non sa chi sei, quindi che cosa hai da perdere? Alla fine se non hai nulla, non hai nulla da perdere, quindi cioè tanto vale provare e andare... Ok, primo punto quindi, tu lavori sul fatto di, vabbè tanto mal che vada e rimango così, cioè non è che perdo soldi, perdo qualcosa, ok. Secondo punto, se mi viene un discorso di mindset, sicurezza, frequenza mentale giusta, non arrendersi ai no? Secondo punto è il fatto di ogni, ogni no, ogni esperienza negativa, anche il fatto che una ragazza ti risponde male, assorbirlo, prenderlo e farne coscienza, cioè analizzare proprio a livello inconscio, cioè a livello nostro personale, il fatto di dire ok mi ha risposto male perché mi sono posto in una maniera sbagliata, mi sono approcciato male, ho fatto questa cosa che non andava rispetto a un'altra, cioè bisogna essere molto sinceri con se stessi, cioè... Tu come affronti no? Come affronti quando succede che la ragazza magari dice no, non ho voglia, non lasciami perdere, devo andare via, come lo affronti? Sicuramente all'inizio era una cosa molto pesante, una cosa abbastanza frustrante, però appunto è con i no, è con i no che i no hanno iniziato a diventare forse e poi hanno iniziato a diventare sì, cioè... Figo sta cosa! Su dieci no sono diventati poi, il giorno dopo sono diventati otto no e due forse, e quelle due forse è diventato forse un sì, però è stato un sì, sincero, cioè è stato un sì che è venuto fuori da me, da quello che ho appreso, da quello che ho messo in pratica analizzando tutti i no precedenti. Sì, sì. Ma adesso come stai tu? Come sei? Cioè nel senso, dopo questo percorso abbastanza invasivo, perché tu ne hai fatti due di Master non uno, hai continuato, hai trovato, insomma si insieme a qualcuno, ti frequenti qualcuno su... Adesso a livello sentimentale no, non ho interesse particolare a frequentare una persona fissa, diciamo a fidanzarmi, perché adesso come adesso non ho trovato una persona che abbia un'aspettativa di vita che vada a coincidere con la mia. Ma perché hai possibilità di scelta e quindi dici ok, magari sto un po' più libero, dato che ora magari posso conoscere chi voglio, o quasi chi voglio. Sì, è una fase di, proprio ancora di sperimentazione, di sperimentazione di esperienze, quindi preferisco non andarmi a, diciamo, impegolare in un rapporto fisso quando ho ancora delle cose da apprendere, delle cose da sperimentare, da provare. Sì, assolutamente, assolutamente. Bello proprio di crescita personale, di comunicazione con le persone, anche al di fuori dell'ambito sentimentale. Allora, ultima domanda, hai riscontrato quando è finito, o ti stai scontrando con altre problematiche relative al discorso di mindset, quando hai giornate magari un po' più deboli, un po' più giù, fai qualcosa per dire ok, mi devo scrollare di dopo, vedi una ragazza per strada, vedevi una ragazza, visto che siamo chiusi per ora, sei in una giornata no, però quella ragazza ti attira particolarmente, che cosa fai, fai qualcosa di particolare, cosa fai per poter dire ok, mi forzo? Beh, una volta che uno raggiunge il mindset corretto, la base, cioè non deve essere più uno sforzo, deve essere una cosa naturale, cioè la pietra migliare, arrivare a fare questo approccio, questa cosa, in maniera naturale, proprio uscire completamente dalla propria zona di comfort e non vedere più questa fatidica ragazza come un ostacolo. Sì, sì. Ok, è un po' complesso questo ragionamento, non so se lo intenderanno tutti, io l'ho capito, l'ho capito. Cioè, diventa parte integrante ormai di quello che fai e il fatto di avere una situazione d'animo negativo in quel momento perché non ho voglia o positivo, fa poca differenza perché è entrato comunque nelle vene. Certo, certo. Anche perché, appunto, come molti pensano o dicono, io faccio il corso, faccio il master per conoscere le ragazze. Io non la vedo così. Cioè, tu fai il corso per imparare, ma poi devi applicare tutti i giorni quello che hai imparato al master. Sì. Cioè, deve essere proprio una cosa che deve uscirti naturale. Tu, un pugile si prepara anni per fare un incontro di dieci minuti. Certo, certo. Assolutamente. Questo è il concetto di base. Non c'è un momento preciso per decidere, ah sì, adesso lo faccio, ora non lo faccio perché non sono settato. No, non esiste. Io sono settato in maniera che in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto, in qualsiasi ambito, io ho le potenzialità per arrivare dove voglio. Poi scegli tu se andare oppure no. Lo scegli però tu. Sì, lo scelgo io. Comunque, intraprendere una comunicazione con una persona che, al di là del fatto che mi piace o non mi piace, cioè, questo è... Ok. Non mi approccio con il fatto di dire, devo andare lì per conoscerla, per avere il numero, per uscirci, per andarci a letto. No, assolutamente. Cioè, lo posso fare perché mi interessa magari sapere dove è andata dal parrucchiere o lo posso fare per arrivare a chiedere il numero. La conoscenza è molto più importante degli scopi poi sessuali o altro. Assolutamente conoscere è la parola d'ordine. Grazie, Ale, sei stato veramente gentilissimo e spero di vederti presto, fuori da questa quarantena. Grazie a te, ci sta. Figurati, prossimo giro comunque ti rinviterò, dai. Ok? Perfetto, volentieri. Grazie. Grazie.